Grazie a tutti! Seguiamo il punto da parte di Lepki. Cacciopa per l'attacco vincente di Lepki. Attenzione! Riceve Lepki l'attacco di Mara. Ancora il muro vincente per Eclexi. Lepki, una battuta. Attenzione! Ve l'avevamo detto. Sta credendo al servizio Monza. Eccolo qui ancora una volta Lepki. Incezione di Gaggini. Perfetto. Poi Cacciopa per Mara. Ragazzi, cosa fa Mara? Cacciopa domestica questo pallone. Schwarz. Trento si salva ancora a Sberpoli. Dall'altra parte per Eclexi. Super muro. Super galassi. Dalla centro Cotamernic non passa il contrattacco di Monza. Che show da parte di Lepki. Acquarone. E poi non chiude Trento il contrattacco di Lepki. Che abbatte Acquarone. Mara la palletta su Lorenzano. Ancora Acquarone per la conclusione di Eclexi. Arriva il muro vincente. Nella formazione di Vint. Vero volley Monza. Scaglia la freccia. Ricezione di Lorenzano. con Sberpoli per la via. Cacciopa sulla corsa di Mara. Sberpoli parla difesa in maniera memorabile. Ancora dietro l'Epki. Ancora Cacciopa per l'Epki. Ancora Sberpoli per Eclexi. Difende sempre Schwarz. Il contrattacco di Mara. Ragazzi, cosa ha fatto Mara? Sberpoli per l'Epki. Battuta di Di Martino. Ricciazione di Lorenzano. Sberpoli per la conclusione vincente. Alla battuta con violenza riceve Lorenzano. Poi c'è Sberpoli. Il chilometri per lui. Magalini la palletta. Difende Mara. Ancora Cacciopa. Per Galassi. Un'iscilata. Micheletto dietro. Il palleggio di Sberpoli. A smarcare proprio la via. Murato dall'altra parte. Ancora la via. Ancora muro sulla via. Riclicsi. Prova a salvarsi come può la squadra. E Trento. Arriva ancora un muro per il Torio. Inizione riceve male Trento. Sberpoli tiene la palla in vita. Ancora l'amica è tornata a parte Caggini. Balla sempre per Cacciopa. L'attacco di Lepki. C'è sul pallone. Schmarz ancora Cacciopa per le vie centrali. Conti Martino. Lepki riceve male Trento. Sottomisura non chiude. Mara. Arriva Lepki. Di gran carriera. Forza il pallone. Per l'inca sarà il nuovo servizio. Ricciazione di Mara. Arriva Schmarz. Arriva Mara e trova il punto del 22. 23. Lepki. La ricciazione di Trento. Sberpoli a cercare le clic. La palla che se ne va fuori. Sopattusa. Recepzione sbagliata. La palla di Trento. L'ace. Di Cacciopa. Il contraattacco di Lavia. Difesora di Caggini. Palla per l'Oepki. Che manda all'attacco. Al punto. Mara. Partuta di Di Martino. Morbida. Sberpoli dal centro. Per la Cosa Merfica. Reva il muro vincente. De Ganassi. 9 metri. Palla che conta la rete. Monza è in finale. Monza è in finale. La prima finalista del Monte. Coppa Italia. Super Lega. Qui all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Batte. 3 a 2 al tie break. Al termine di un match pazzesco.